Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo per venerdì 20 gennaio 2023 a cura di Meteograd. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Una potente discesa fredda polare interessa i settori centrali europei e si getta nel Mediterraneo dove scaverà una profonda depressione sul sud Italia carica di maltempo e neve a bassissima quota. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. L'alta delle Azzorre spinge verso ovest fino a lambire il Portogallo, spostando leggermente più ad est la discesa fredda e instabile entro la quale scorre meridiana aria di diretta estrazione polare. Quest'aria, entrando con prepotenza nel Mediterraneo, ha scavato una profonda depressione sul sud Italia che richiamerà ulteriore aria fredda verso latitudini meridionali. Si crea perciò uno scenario invernale con molta neve, localmente in pianura. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 20 gennaio 2023. Nord. Nubi irregolari, più compatte sui settori emiliano-romagnoli dove si avranno precipitazioni sparse. Su queste zone, la presenza di aria fredda a tutte le quote consentirà la caduta di neve fino in pianura, a tratti intensa. Locali schiarite altrove. Centro. Un flusso di correnti nord-orientali, in avvitamento su di un minimo sul basso tirreno, porta condizioni instabili sulle adriatiche con piogge e neve a bassissima quota su Marche e poi Abruzzo. Asciutto sui settori tirrenici causa tramontana. Sud e isole. Una forte depressione si sposta dalla Sardegna al basso tirreno, portando con sé forti piogge e temporali. Allerta idrogeologico di medio-alto livello. Neve in appennino in calo fino alla collina e graupeli in pianura in occasione dei temporali. Temperature massime in ulteriore diminuzione, più accentuata sulle adriatiche e dal sud. Minime anch'esse in calo con diffuse gelate sulle pianure nord-occidentali. Valori ovunque decisamente al di sotto delle medie. Ventilazione con intensità fino a molto forte in rotazione ciclonica attorno ad un minimo depressionario al sud. Colpi di vento tra le due isole maggiori e nei temporali. Mari da molto mossi ad agitati al sud, dove vi saranno anche delle mareggiate. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Forte maltempo sabato al centro-sud e adriatiche a causa di una depressione sulla Puglia. Attese precipitazioni abbondanti con temporali e neve in calo di quota, causa flusso di aria fredda da nord-est. Attenzione, la neve raggiungerà la pianura su Marche, Abruzzo e Molise. Situazione invariata per domenica con il minimo che risalirà all'Adriatico verso nord, portando neve in pianura fino in Emilia. Asciutto al nord-ovest e medio-alto tirreno. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.